I carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo all'Aristorò. Si arricchisce dunque di una nuova puntata la vicenda relativa alla gestione del servizio per le scuole di Benevento. I NAS sono tornati a far visita all'azienda finita al centro di un'indagine alla quale stanno lavorando il sostituto procuratore Miriam Lapalorcia ed i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Benevento. Come si ricorderà il servizio di erogazione dei pasti per i bambini delle scuole è stato sospeso fino all'8 maggio. L'intento dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Pepe e del dirigente del servizio Giuseppe Moschella è quello di fare in modo che si faccia piena luce sulla vicenda anche a seguito della video inchiesta del Corriere.it che ha sollevato un vespaio di polemiche. Si prova a capire l'integrità degli alimenti preparati dall'azienda per i bambini la quale a più riprese ha sottolineato la genuinità dei prodotti. Il sopralluogo dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni fa seguito ad un altro filone di indagine che ha portato i finanzieri ad acquisire documenti sia presso l'azienda che presso gli uffici del comune di Benevento. Al momento ci sono quattro indagati.